Tunisite, Burbata, La, Beja, Siliana, Kasserin, Site e Nur. Terza notte di scontri in diverse città tunisine, dove con il calare del buio ha ripresa la guerriglia urbana. Gomme bruciate, sassaiole e dall'altra parte le forze dell'ordine che rispondono con i lacrimogeni. Negli scontri di martedì notte sono state arrestate 237 persone, ma non è stato un deterrente per i giovani che protestano contro il carovita, nuove tasse e repressione.